ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati qui ragazzi su monopoli go ma iniziamo subito con una stazione che cosa ci dà l'istruzione ok allora vediamo un po però vediamo un po che cosa ci dà oggi le vincite veloci ok gioia 40 dati che ci potranno essere d'aiuto ok sicuramente sarà migliorare due difficili nel fine di arrivare su imprevisti non so se ci arriveremo subito prendiamo altre ricompensano ma una carta oro stranamente addirittura 12 un'altra stazione così oggi stranamente non ha dato missioni delle stazioni ovvero distruzione ora prima così in manodale da imprevistare veloce veloce infatti ecco qua in brevis ho fatto fare di nuovo un'altra distruzione ragazzi cioè rendetevi conto se oggi usciva rapina e poi durava il video altri 10 minuti solo per dirvi questo allora ci prendiamo pure questa ricompensa noi abbiamo completato il vincitore veloce devo dire in quasi due minuti prendiamoci tutte le ricompense ci prendiamo pure la reazione prendiamo pure questa ultima ricompensa e prendiamoci anche la quarta e ultima ricompensa giornaliera che è questa nuova emoshi quindi non è vero che dire andiamo a prenderci pure questo ricordo spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo domani con un prossimo video bello ricordo bello ricordo bello ricordo bello ricordo bello ricordo Grazie a tutti.